...Trump, che vuole fare una guerra commerciale con il mondo e aumentare i tazzi per tutti i prodotti che vengono dall'estero. Carissimo Trambotillo, se anche noi in Europa facessimo più o meno lo stesso, aumentando i tazzi sui prodotti che vengono dall'America, tipo, che non so, la bevanda cassata che fa fare i rottini, la scarpa col baffo, oppure il telefonino con il frutto morsicato. Dove andiamo a finire? Per carità, Trambotillo, tu ti vuoi fare i tazzi tuoi, fatti pure i tazzi tuoi, ma permette che ci facciamo un po' anche noi i tazzi nostri, perché si dice, no? Che si fa i tazzi suoi, come si intano. Ciao!